allora il dritto sicuramente fernando gonzalez è riconosciuto come uno dei dritti migliori nella storia del tennis e ancora ad oggi sicuramente anche i video gli highlights sono sempre belli da vedere rovescio prendo stan parte che svizzero ma rovescio una mano come me quindi poi uno dei più belli che c'è nel circuito servizio vado con isner troppo facile ma sicuramente l'altezza aiuta ma il suo servizio a parte l'altezza è veramente completo le variazioni roger roger cambi di spin cambi di gioco smorzate slice sicuramente il migliore e per la mobilità vado con diokovic è conosciuto per essere il più flessibile più si muove incredibile quindi prendo lui fitness e nonostante l'età prendo ancora rafa rafa ha vinto tanti di quegli slam grazie al suo livello di fitness e la sua voglia in campo è la conoscenza del gioco prendo medvede è uno magari non appariscente ma che comunque è arrivato al numero uno al mondo quindi sa il fatto suo la mentalità riprende rafa e lui è il re della mentalità quindi devo prendere lui per forza